Torino Film Festival, sono Angela Prudensi, questa è Fred, The Festival Insider e saluto qua accanto a me Massimo Ragneri, Roberta Torre e Sonia Bergamasco, qua a Torino per presentare Riccardo Va all'Inferno. Roberta, una grande grande scommessa, prendere Shakespeare e come dire, cambiarlo completamente di segno, ne hai fatto un'operazione pop, grottesca, sopra le righe, come è nata questa idea? Cominciamo dall'inizio. Diciamo che io sono molti anni che lavoro sul musical e sul Riccardo Terzo anche perché comunque da due o tre anni ho lavorato molto anche a teatro facendone un'altra versione eccetera e quindi poi mi era rimasta la voglia di lavorare al cinema sul Riccardo Terzo e portandolo sempre dentro la musica e lavorando sempre con la musica come piace fare a me e quindi ho pensato di farne un film musicale, non lo definirei musical, lo definirei proprio un film musicale, forse anche un'opera musicale, qualcosa che assomiglia anche un po' forse al più alla tradizione del melodramma o dell'opera lirica piuttosto che del musical to cure, ecco diciamo. C'è ovviamente, ci sono le canzoni, c'è ovviamente il Riccardo Terzo, ci sono due grandi interpreti che hanno condiviso con me questa avventura, Massimo Ranieri che si è prestato a divenire un Riccardo calvo e luciferino e Sonia Bergamasco che è diventata una regina madre con un invecchiamento che la rende super sexy a mio parere in una maniera assolutamente inconsueta e quindi ho avuto anche la possibilità di farne un percorso molto antinaturalistico che era quello che volevo. Antinaturalistico ma non così irrealistico perché tu hai spostato l'azione in un tempo senza tempo, allo stesso tempo però è anche molto attuale perché basta un po' leggere la cronaca e ci rendiamo conto che Riccardo Terzo è ancora là, no? In qualche modo ti ha ispirato? Ma sai la verità è che questi sono dei grandi classici non a caso, ecco il Riccardo come l'ho letto, come insomma tante cose che sono state scritte da Shakespeare hanno una grande attualità proprio perché sono degli archetipi, l'archetipo dell'eroe negativo, dell'uomo nero, del cattivo amorale è assolutamente eterno e credo che è la parte buia di ognuno che poi viene fuori e nel corso del tempo si incarna in maniera diversa in varie persone, in varie fisionomie, può essere il dittatore, può essere l'uomo nero, può essere il cattivo di turno ma la parte nera di noi credo che sia quella che comunque affascina fondamentalmente tutti e il poterla vedere sullo schermo, il poterla visualizzare, la mostruosità ti dà la possibilità di forse anche di esorcizzarla e questo non dovrebbe essere fatto. Massimo, sei stato chiamato in causa, hai sposato questo progetto come ha detto Roberta in maniera viscerale e anche in maniera viscerale lo ha interpretato perché intanto hai accettato di trasformarti in un modo che veramente fai paura, molto molto dark, cattivissimo, ecco, raccontaci un po' questo lavoro sul corpo perché veramente hai fatto un lavoro sul corpo incredibile. Sì, sì, è il nostro dovere di attori che facciamo questo mestiere, insomma, il divertimento sta lì, la trasformazione sta lì, se no faresti un altro lavoro, per cui quando si ha l'occasione di fare una cosa che mascheri la tua faccia, diventi una maschera per fare quella maschera, insomma il divertimento sta lì, per cui con Roberta ci dicevamo appunto tutti i giorni, ci si mandava attraverso dei file così, una foto con un occhio truccato, un po' già rapato a zero, non proprio, io dicevo ma accentuiamo, vediamo, facciamo sempre in tempo, siamo su una foto, facciamo sempre in tempo a mettere una ciocca di capelli e cose, invece più si andava avanti e più veniva fuori questa mostruosità di questo uomo, di questo ragazzo. Ricordiamoci sempre che Riccardo ha 27 anni, 30 anni, a 33 viene ucciso, per cui sempre pensando allo scritto originale di 400 anni fa, per cui piano piano veniva fuori questo essere assolutamente inimmaginabile di tutto ciò che lui ha dentro, ma non cattivere, non malvagità, anche se viene descritto come un malvagio, ma è la malvagità della nostra società, la malvagità del potere, è la malvagità politica, è l'attore, l'attore che recita come i nostri, come i politici, che sono degli attori, sono dei grandi attori, devono convincere noi che quelle cose che fanno vanno bene, e così è Riccardo, ma al di là di questo, come dico sempre, il versante più affascinante di Riccardo per me è la sua mancanza totale di amore, e il motivo scatenante di tutto ciò, del suo essere malvagio, diciamo così, dovuto a sua madre, alla madre che lo ha rinchiuso in un ospedale sin da bambino, e esce solo al momento in cui deve uscire, e lì incomincia a tirar fuori la sua malvagità, ma tutto scatenato da questa mancanza di amore della madre, l'acerante, deflagrante per lui. Perché Riccardo va all'inferno, ma in realtà Riccardo all'inferno c'è già stato, perché appunto esce da un manicomio, quindi tu hai dovuto anche ritrovare questo filo di follia. Io credo proprio che lui alla fine va in paradiso, perché all'inferno c'è già stato, proprio nel manicomio, lì è stato il suo vero inferno. Alla fine quando muore, tanto la sappiamo, la storia, è storicamente riconosciuta, che Riccardo muore, e Riccardo forse, quello è il momento liberatore, il momento in cui lui va in paradiso. Un attimo di quiete. Sonia, questa cattivissima madre. Così buona. Tu che sei così buona, ti hanno fatto fare questa madre cattiva. Tu sei un'attrice che ama molto il teatro, scrivi, dirigi, e forse qualche volta hai anche pensato di interpretare questa madre, no? Riccardo III. Ma te l'aspettavi così poi? No, non ho pensato di interpretare. Veramente la proposta di Roberta è arrivata inaspettata, ma ci siamo trovate subito, come se ci conoscessimo già. In effetti quello che mi ha consegnato Roberta da leggere era un romanzo, direi. Una forma romanzo per visioni, visioni con lunghissime, meravigliose didascalie, e dovevi vedere, dovevi cercare di immaginare, di vedere quello che poteva essere. Quindi ci sono stato un lungo parlare, questa lettura, e poi il provarci, il provarci a stare... Devo dire che è stato un set per me particolarmente faticoso, sicuramente per tutto il trucco a cui mi sono sottoposta. Quante ore al giorno? Beh, tante. La parte madre erano quattro ore e mezzo, cinque ore di trucco. Ma detto questo, è stato un set con le bollicine, molto vitale, creativo. Roberta ha sempre accolto quello che poteva venire dall'attore. Sento un grande rispetto per il nostro mestiere. e quindi è bello poter lavorare così ogni tanto. Senza nepro, senza ansia, senza... Invece da questo dark che viene fuori, come diceva Sonia, da questo dark, fu terribile questa atmosfera cupa. Poi dietro si vedeva come dei pazzi, ci divertivamo, i balletti, le cose, le canzoni. È stato un continuo veramente rilassante. Poi, ecco, dai costumi di Massimo Cantini-Parrini, a parte appunto i trucchi, i trucchi per me sono stati curati da Luigi Ciminelli, insomma, un grosso lavoro, costume e le scene. Le scene di Luca Servino era un'immersione istantanea in una visione. e quindi questo è stato... Sì, bisogna nuotare più che altro nelle scene, no? Sì, bisogna nuotare, bisogna, come dicevamo, accettare questo viaggio, che è comunque un viaggio guidato dalla musica, ma anche con un'attitudine musicale nella visione. Ecco, forse una cosa strana, bisogna mettere insieme la visione e l'ascolto, sedersi e godere di questo viaggio e uscire da questo viaggio con delle percezioni che magari sono diverse da quelle del cinema, in cui c'è appunto una narrazione strettamente diegetica, insomma, classica, no? In cui succedono delle cose. È veramente un viaggio, penso. No, ma effettivamente il film chiede di essere letto proprio da tanti punti di vista, insomma, a partire da quello musicale, le musiche sono di Mauro Pagani, ricordiamolo, però la scenografia, la fotografia, l'universo che hai costruito, insomma, è tutto insieme. È come stare dentro questi tunnel del Luna Park, ma non in quel senso, perché i codici sono diversi, però è un viaggio veramente che uno fa, si mette su questa navicella e va. Ecco, per un'ora e mezza vaga in questo mondo. E' veramente fiducia quando non si sta una micella, perché sai che lei poi ti condurrà sulla Luna. Un'ultima cosa ve la voglio chiedere e riguarda la lingua, perché c'è Shakespeare, c'è l'oggi, ci sono le musiche che entrano, ecco, come avete armonizzato tutto e ognuno dal suo punto di vista? Ma è solto il problema, bene? Sì, sì, assolutamente. Che facciamo tutto in versi, insomma, oggi come oggi forse in versi, le canzoni. Ma le canzoni, Mauro già mi ha detto, infatti i pagani, alcuni versi erano, alcune parole erano inversi, altri invece pop, diciamo così. e lei è stata bravissima a unire appunto il sonetto all'aulicità del testo delle canzoni e invece al linguaggio di oggi moderno. Come dice lei, il 2.0. Sì, è un Riccardo 2.0. Io ho fatto un po' il, forse il direttorato dell'orchestra, ecco, di tutti questi artisti, in qualche modo. Mi piace pensare al mio lavoro in questo modo, avendo a disposizione dei grandissimi talenti e delle grandissime diversità, proprio anche di linguaggio, perché appunto avere la musica, avere il testo grande di Shakespeare, avere i testi quotidiani, avere anche delle battute extra contemporanee. C'è una frase che io ho rubato a Marta Marzotto, per esempio. Una grande citazione di Marta Marzotto. La vendetta resta sempre comunque il migliore dei perdoni. Ecco, una cosa del genere che sembra veramente detta da una... Sì, 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 esatto. Io subito ho fatto questo omaggio a Marta Marzotto e poi insomma ci sono veramente tanti codici diversi che mi è piaciuto, come dire, calibrare, trovare un equilibrio, appunto sperando di averlo trovato, ma sicuramente il discorso sul linguaggio è un discorso giusto, corretto e credo che anche Sonia abbia lavorato su un linguaggio particolare. Sì, insomma, sono entrata in quello che era il disegno stabilito e poi anche la voce da trovare, la voce che non poteva essere la nostra, naturalmente. Grazie Sonia Bergamasco, Roberta Torre, Massimo Ranieri. Il film, ve lo ricordo, è Riccardo va all'inferno, guardate che bella copertina del pressbook, che già dice molto di che cosa, vero, che è il manifesto, di che cosa dobbiamo aspettarci. Torino Film Festival e Fred, the Festival Insider.